E' uno straordinario modo per promuovere le eccellenze vitivinicole dell'Abruzzo e quindi l'Abruzzo come regione e cade quest'anno però nel momento peggiore per le aziende, per i produttori e per gli agricoltori che si occupano di vino perché abbiamo approvato proprio l'altro giorno in giunta lo stato di calamità a frutto dell'aggressione che i parassiti hanno dato alle nostre vigne ciò comporta un momento di grande difficoltà quindi era importantissimo quest'anno ripetere l'edizione del Wine Festival perché sottolinea l'importanza delle annate precedenti e incoraggia i produttori in questo momento molto difficile la regione chiaramente ha già fatto una parte di ciò che può fare perché i danni sono per decine e decine di milioni di euro noi abbiamo stanziato i primi 10 milioni di euro e ci attendiamo che il governo guardi all'Abruzzo che ha questa specifica situazione di difficoltà con un occhio di riguardo perché non meritiamo.